Beh, per gli amici di Reteotto mi fa piacere invitarvi questa sera alle ore 21 saremo al Teatro Denardis di Orsonia con lo spettacolo Coppie Felicemente Infelici. In scena con me mia moglie Valentina Olla, Claudio Insegno, Sabrina Pellegrino, altri due splendidi attori ed è semplicemente la storia, come vedete dalle immagini, di una coppia che invita a cena un'altra coppia, non per festeggiare qualcosa ma per comunicare che questa coppia si sta separando e quindi gli amici dovranno decidere con chi rimanere amico, se l'uno o con l'altra. È l'occasione per ovviamente tornare a ritroso nel percorso di coppia, capire da dove i problemi sono nati e giocheremo con tutte quelle piccole, insopportabili abitudini che però ci fanno anche molto sorridere, ci fanno arrabbiare quando siamo in coppia ma sul palco ci fanno ridere e quindi noi vi aspettiamo ad Orsonia questa sera alle ore 21 per lo spettacolo Coppie Felicemente Infelici. C'è da ridere perché comunque siamo tutti quanti così. E poi non dovete assolutamente mancare all'appuntamento di martedì con la nuova puntata di storie, questa volta non ci sarà Pietro Lambertini a condurre ma ci sono io, non c'è Pietro e gli ospiti saranno Federico Perrotta e Valentina Olla, una coppia di artisti straordinari. Vi consiglio di non perdere la puntata anche perché ne vedrete delle belle, ne vedrete una bella, l'altro è simpatico.